E' andato in scena ieri sera lo spettacolo di danza Pink Floyd-Carmen Sweet al Teatro Massimo di Palermo. Il corpo di ballo del Teatro Massimo è seguito nella prima parte Pink Floyd, Atom Earth Mother, creazione di Mika Van Hecke, e nella seconda parte Carmen Sweet, la coreografia di Alberto Alonso, ripresa dalla moglie, e musa Sonia Calero, con le musiche di Bizet e di Massene, riscritte da Rodion Shedrin. Pink Floyd, con la regia e coreografia di Mika Van Hecke, assistente alla regia e coreografia Miki Mazzuse, e il racconto di ricordi legati alla vita del coreografo belga, l'arrivo a Parigi, la scoperta della libertà, anche grazie alla musica dei Pink Floyd, ma anche il rapporto con la bellissima madre, con il padre, affascinante seduttore, con la sorella gemella Marina, la quale è dedicata alla coreografia di Pink Floyd, creata per il corpo di ballo del Teatro Massimo, e che ha avuto la prima rappresentazione la scorsa estate al Teatro di Verdura. Ospite d'onore nel ruolo del padre è stato Denis Gagno. Gli altri ruoli erano interpretati da Elisa Arnone, Iurico Niciara, Michele Morelli, Giuseppe Bonanno, Andrea Mociardini, Carmen Marcuccio e Andrea Mociardini, Gianluca Mascia. L'impianto scenico di Renzo Milan per l'allestimento del Teatro Massimo sfrutta il video realizzato da Studio Reign. Nella seconda parte Carmen Suite ha visto come applauditissimi artisti, ospiti Svetlana, Zakharova, etual del Teatro Balcioi di Mosca e del Teatro alla Scala di Milano, e interprete di Carmen. Denis Rodkin, primo ballerino del Teatro Balcioi di Mosca nel ruolo di Non Yossè, e Mikhail Lobukhin e Scamillo, anche lui primo ballerino del Teatro Balcioi di Mosca, con loro Francesca Davoli e Michele Morelli, il corpo di ballo del Teatro Massimo, la coreografia di Alberto Alonso, che racconta la tragica storia di Carmen, che sconta con la vita la sua rivendicazione della libertà di passare dall'amore di Don Yossè a quello di Escamillo, è stata ripresa alla vedova e musa di Alberto Alonso, Sonia Calero e da Maria Cristina Alvarez, con le musiche di Rodion Shedrin, che rielaborano i temi dell'opera di Georges Bizet, eseguiti dall'Orchestra del Teatro Massimo, diretta da Alexei Baclan. Grazie a tutti!